Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è l'estrazione del video contest come avete visto sono le 16 e 40 e qualcosa, adesso mi sfugio e quindi sto chiudendo il video contest per l'account moddato in pratica e quindi che cosa andremo a fare? Andremo ad estrarre un vincitore per questo account moddato e quindi andiamo a chiudere il video contest ragazzi, andiamo a chiudere questo video contest così in maniera tale da assegnare questo account moddato per PS3 ragazzi Allora, innanzitutto volevo dirvi che domani ci saranno altri due contest, uno di FIFA e uno di GTA e molto probabilmente estrarò un account moddato per PS4 già passato e un'altra cosa, in questo mese di Natale ragazzi ho deciso di farvi qualche regalino quindi penso che metterò in palio anche qualche Playstation card da 20 euro, non so una, due ma andrò a vedere anche perché comunque ragazzi i soldi ce li sto a mettere io, di tasca mia quindi vi voglio fare un regalo, visto che voi l'avete fatto a me e mi avete portato a 2000 iscritti quindi vi voglio fare un regalo io e speriamo che posso fare anche qualche altro contest di questo tipo non so se metterò un primo, un secondo, un terzo estratto regalando un gioco, una Playstation card o qualcos'altro comunque nulla, poi vi farò sapere quindi rimanete ben messi sul canale per nuovi aggiornamenti ragazzi allora passiamo invece a questo contest allora come state vedendo vi metto ogni tanto l'orario per farvi rendere conto che non sto assolutamente truccando nulla come vedete vi faccio apparire l'orario spesso e volentieri per farvi capire che il video è tutto compatto e come state vedendo ragazzi ecco a voi il vincitore, il vincitore di questo contest di questo account moddato per PS3 mi può contattare al mio ID anche da PS3 mi manda un messaggio anche se sono su PS4 mi arriva quindi nulla ragazzi, rimanete connessi sul canale per nuovi contest, per nuovi aggiornamenti e per nuovi glitch e video ragazzi sono stato un po' inattivo tipo ieri comunque sto un pochino inattivo perché ho molte cose da fare in questo momento però comunque sia ci sono ragazzi quindi non mi dimentico di voi e voi non dimenticatevi di me detto questo vi lascio un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti ragazzi